La Guardia di Finanza di Pistoia, su ordine della magistratura, ha sequestrato ad un produttore di vino del Pistoiese oltre 150.000 bottiglie e 430.000 etichette per la produzione e commercializzazione di prodotti contraffatti e frode in commercio. Le etichette in particolare riproducevano forma, colore e segni distintivi registrati ed in uso esclusivo ad altre due case vinicole, mentre l'attività non ha riguardato la qualità dei vini, risultati genuini. Nello specifico, i finanzieri del nucleo di Polizia Tributaria e della Compagnia di Pistoia hanno concentrato la loro attenzione sulle bottiglie di vino prosecco e pinot nero dalla forma rastremata e con la colorazione gold e pink, ottenuta con un particolare processo denominato metallizzazione. Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di scoprire che proprio il particolare design e la colorazione erano oggetto di tutela, trattandosi di marchi tridimensionali già registrati presso le autorità comunitarie ed internazionali di un'azienda trevigiana che sin dal 2002 commercializzava con successo nel mondo i propri vini, proprio grazie alla forma e colore dell'innovativa bottiglia. L'attività delle fiamme gialle ha permesso inoltre di ricostruire i volumi di vendita della ditta pistoiese che tra il 2013 e il 2014 aveva già posto in commercio, prevalentemente sui mercati stranieri, quasi 390.000 bottiglie contraffatte. Le indagini hanno consentito inoltre di constatare che l'imprenditore pistoiese commercializzava vini con etichette confondibili con i nomi commerciali registrati da un'altra azienda vinicola e per questo sono state sequestrate oltre 430.000 etichette pronte all'uso.